Ciao ragazzi, in questa video-lezione forniremo un insieme di regole teoriche che occorre ricordare per determinare il dominio di una funzione. Gli esempi pratici per ognuno dei punti che elencheremo saranno trattati nelle successive video-lezioni. Per la determinazione del dominio di una funzione occorre ricordare che le funzioni razionali intere hanno per dominio r. Nelle funzioni razionali fratte non può mai annullarsi il denominatore. Il radicando delle radici di indice pari deve sempre esistere ed essere maggiore o uguale a zero. Il radicando delle radici di indice dispari deve esistere e può essere positivo, negativo o nullo. Il logaritmo deve avere argomento positivo e base positiva ma diversa da 1. L'esponenziale con base costante positiva esiste se esiste l'esponente. La potenza con base variabile di esponente costante irrazionale positivo viene considerata solo per valori della base positivi o nulli. La potenza con base di esponente entrambi variabili viene considerata solo per valori positivi della base. Le funzioni goniometriche y uguale seno di x e y uguale coseno di x esistono per ogni x appartenente ad R. La funzione goniometrica y uguale tangente di x, rapporto tra sen x e coseno di x, esiste se il coseno di x è diverso da zero. La funzione goniometrica y uguale cotangente di x, rapporto tra coseno di x e seno di x, esiste se il seno di x è diverso da zero. Le funzioni goniometriche y uguale arcoseno di x e y uguale arcoseno di x esistono per valori della x compresi tra meno 1 ed 1, estremi inclusi. Le funzioni goniometriche y uguale arco tangente di x e y uguale arco cotangente di x esistono per ogni x appartenente ad R. Bene, quelle appena elencate sono le regole che seguiremo per la determinazione del dominio di una funzione. Vi ricordo che nelle successive video lezioni esamineremo, per ognuno dei casi elencati, un esempio pratico. Ragazzi, se vi è stata utile questa video lezione vi invito a mettere il mi piace su YouTube, sul sito e su Facebook. Vi ricordo inoltre che potrete seguirci su Twitter e che sul nostro sito troverete l'indice aggiornato di tutte le lezioni ordinate per categoria. Vi ringrazio per aver seguito questa lezione.